Renato Balestra si è spento ieri sera in una clinica romana, aveva 98 anni, con lui se ne va davvero una figura unica del Made in Italy e lo stilista ha vestito dive e anche regine. Addio a una delle personalità più brillanti dell'alta moda romana. Lo stilista Renato Balestra si è spento ieri a 98 anni. Lo annunciano le figlie Fabiana e Federica che insieme alla nipote Sofia continueranno a gestire il marchio. Nato a Trieste, nel 1954 si trasferisce a Roma, dove diventa subito uno dei protagonisti dell'alta moda capitolina. Innamorato del blu, ne battezza una sfumatura che sarà per i suoi capi un tratto distintivo. La donna ideale di Balestra è romantica e raffinata, una diva metropolitana. Veste First Ladies, principessa e star di Hollywood anche sul set, da Av Gardner a Gina Lollobrigida e Sofia Loren. Uomo schivo e gentile, ma soprattutto imprenditore e lungimirante, Balestra è tra i primi a portare il Made in Italy in Oriente e a scommettere sulla grande distribuzione all'estero. Per tutta la vita coltiva la passione per il teatro e l'opera, collabora con Zeffirelli e Pavarotti che indossa in scena alcuni suoi costumi. Una sensibilità artistica che Balestra ha saputo portare anche in passerella, fondendo couture e spettacolo.